Gloria dice hai mai trovato nella tua vita una persona con la tua lunghezza d'onda? Ma è fondamentalmente tutte le persone che trovi sono sulla tua lunghezza d'onda in quel momento Se no la troveresti Capisci Gloria? Cioè mi chiede hai mai trovato nella tua vita una persona con la tua lunghezza d'onda? Sempre Ma è una domanda È una domanda che non ha senso di esistere Perché se non Cioè le persone ti arrivano perché stanno sulla tua lunghezza d'onda Se no non ti arriverebbero Puoi non ammetterlo Ma basta vedere le persone che attiri per capire qual è la tua lunghezza d'onda Se no non le attireresti È molto semplice Quindi il principio di fondo è sì Ovvio sempre Ovvio che nel momento in cui la mia onda cambia Cambiano le persone Questo è normale Ecco perché dico Nel momento in cui avete qualcosa di stabile Quindi dei legami limitanti Vi diventa difficile cambiare lunghezza d'onda Perché quando cambiate lunghezza d'onda La trasmissione cambia E questo è uno dei motivi per cui la maggior parte delle persone Non amano il cambiamento Perché sanno inconsciamente Che cambierebbero le cose attorno a loro E visto che c'è un'altra cosa Che dice Meglio quello che Meglio un uovo oggi Che una gallina domani O comunque sia Hanno paura di quello che ci sarà dopo Perché oggi siamo sicuri Di quello che c'è E c'è Magari non ci piace Però c'è Se cambio Non so che cosa accadrà domani Quindi non si fidano E non si affidano Al loro stesso cambiamento E alla loro stessa lunghezza d'onda Quindi non la cambiano Perché cambiare lunghezza d'onda Spesso e volentieri Vuol dire Cambiare il mondo attorno Attirerai persone diverse Ma è ovvio Attirerai persone con la tua lunghezza d'onda In quel momento Grazie a tutti